Ciao a tutti Circa un mese fa a Bologna c'è stata una grandissima grandinata Siccome su Youtube non ho visto moltissimi video a riguardo Soprattutto dei danni creati dopo questa enorme grandinata Dato che ho un drone e fare un sopralluogo del quartiere non mi costa proprio niente Ho deciso di farlo io Lo faremo partire dal parchetto con il landing pad, la piattaforma, l'atterraggio, il drone e un DJI Soprattutto dei danni creati 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 Soprattutto dei danni creati